Arriva il 22 aprile su Sky Atlantic, in streaming su Now e On Demand, la seconda stagione della serie Sky Original. Un viaggio intenso nel mondo dell'alta finanza, quello dove a gestire il potere, qualunque sia la sua forma, sono i diavoli. La vicenda ruota attorno al profondo legame, a volte ferre o altre ambiguo e controverso, tra i due protagonisti, figli peraltro di due culture molto differenti. Da un lato l'italiano Massimo Ruggiero, interpretato da Alessandro Borghi, che ha fatto una rapidissima carriera, partendo quasi dal nulla e diventato lo spregiudicato e geniale head-off trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo, la New York London Investment Bank. Ma è proprio il suo vecchio mentore Dominic Morgan a ripresentarsi e metterlo in guardia. I nuovi partner cinesi sono pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e USA per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. Massimo deve allearsi con Dominic se vuole lottare dalla parte giusta. A chi Massimo deve credere? Una domanda che lo porterà fino al 2020, nel mezzo della pandemia globale, Massimo dovrà finalmente scegliere da che parte stare. L'altro protagonista è Dominic Morgan, interpretato da Patrick Dempsey, americano, annoverato tra gli uomini più potenti della finanza mondiale, zio della banca e mentore di Massimo. In questo rapporto che appare solido ci sono però delle infiltrazioni di omertà e mistero, soprattutto da parte di Morgan, e infatti il rapporto tra i due inizia a scricchiolare quando, causa alcuni segreti dello stesso Dominic, Massimo si troverà coinvolto in una guerra mondiale. Ormai la Brexit è alle porte. Sono passati quattro anni da quando Massimo Ruggero è riuscito a sventare il piano di Dominic Morgan contro l'euro e nonostante il caro prezzo personale pagato, Massimo ha deciso di rimanere CEO dell'NYL. Sempre più messo in discussione dal board, Massimo ha deciso di intraprendere una politica di acquisizioni filocinesi, facendo entrare dalla Cina nuovi investitori e membri del team. Ma è proprio il suo vecchio mentore Dominic Morgan a ripresentarsi e metterlo in guardia. I nuovi partner cinesi sono pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e USA per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. Massimo deve allearsi con Dominic se vuole lottare dalla parte giusta. A chi Massimo deve credere? Una domanda che lo porterà fino al 2020, nel mezzo della pandemia globale, Massimo dovrà finalmente scegliere da che parte stare. Iscriviti al canale e attiva tutte le campanelle e metti un bel mi piace a questo video.